Ciao a tutti, voglio parlare in questo video della strategia per riconquistare un uomo. Ora, la strategia per riconquistare un uomo è in varie fasi, tutte le fasi vanno rispettate. La prima fase è quella che riguarda il capire le cause della rottura. Mentre metti in atto questa fase, ovviamente devo mantenere l'assenza di contatto, evitare il contatto. Evitare il contatto vuol dire non chiudere, come ho spiegato in un altro video, i canali. Mantenere aperti i canali, Facebook, Twitter, che cavolo ne so, Whatsapp, eccetera, ma non mandare sms, insomma, mantenere il distacco. E in questo modo ho tempo per capire le cause della rottura, che possono essere o di natura emotiva o di natura logico-razionale. Questo è fondamentale. Nel frattempo evitare i tre errori fondamentali che fanno le donne nella riconquista. Cioè, o essere stalker, mandare messaggi, tempestare dei messaggi, chiamate, e perché, per qua, e perché mi hai lasciato, e come mai, eccetera, eccetera. Due, dimostrarsi bisognose, cercare di dimostrarsi bisognose, chiamando anche qua, e non ce la faccia vivere senza di te, e mi ammazzo, e qua, e su, e giù. Oppure, il terzo errore, cercare di agganciare col sesso. Quindi, allora, capire perché è avvenuta la rottura è importante, perché poi il recupero andrà messo in atto. La seconda parte è evitare gli errori, mantenere il distacco, diciamo, e poi, fatto questo, cercare di vedere cosa fa lui. Cioè, se lui cerca, in qualche modo si accetta l'amicizia, si entra in amicizia. Se lui non cerca, passato un certo periodo abbastanza lungo, si creerà una situazione tale per cui ci sarà un incontro casuale, una motivazione a cercarlo per qualche motivo, ma tranquillamente in amicizia. Questo è fondamentale, nel frattempo devi aver messo in atto anche un percorso di crescita personale per sviluppare le tue caratteristiche e per essere, diciamo, più sicura di te stessa. Perché se non sei sicura di te stessa, non hai nessuna possibilità di poter riconquistare qualcuno, anzi cadrai in situazioni sempre, sempre peggiori. Una volta che sei riuscito a entrare in amicizia per un verso o per l'altro, diciamo, o perché ti ha cercato a lui o perché tu hai creato una situazione di contatto casuale, diciamo così, devi a quel punto lì somministrare emozioni. La strategia prevede una somministrazione di emozioni. Somministrare emozioni lo puoi fare attraverso, diciamo così, l'agganciare e capire quelli che sono i suoi blocchi emotivi, vedere l'abbandono, se in qualche modo funziona. In questo caso l'abbandono non è che ti puoi allontanare, devi farlo mettendo degli antagonisti. L'unico modo per stimolare l'abbandono, in questo caso, è utilizzando degli antagonisti. Ed è meglio utilizzare degli antagonisti che siano il contrario di com'è lui. Cioè se lui è un tipo trasgressivo, devi mettere un antagonista istituzionale o viceversa, in modo tale che abbia poche possibilità di difendersi. È ovvio che se lui poi, in qualche modo, fa delle rimostranze su questi antagonisti, eccetera, puoi somministrare anche il rifiuto. E quindi vuol dire che c'è un altro modo per produrre emozioni. Devi agire in questo modo fin tanto che lui non manifesti sempre più chiaramente l'intenzione di passare del tempo con te e a quel punto lì puoi mettere dei vincoli. I vincoli quelli possono essere? Beh, i vincoli possono essere di diversa natura. I vincoli potrebbero essere delle condizioni che tu metti affinché lui, diciamo, accetti questi vincoli. Ad esempio, che ne so, farti invitare fuori a cena, farti portare da qualche parte. Insomma, più condizioni metti che lui accetta, più si coinvolgerà di nuovo. E quindi poi devi fargli entrare bene in testa quali sono, come dire, le condizioni che deve comunque accettare. E tra l'altro, se nel frattempo hai capito le cause della rottura, ovviamente devi mettere in atto un comportamento tale per cui non si ripresenti più la stessa situazione, altrimenti dopo un po' si ricadrà nello stesso dinamismo. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se questo video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!